Sicuramente è una vittoria importante perché, come ho detto alla vigilia, quando giochi contro la Juventus diventa un parametro per chiunque. Noi siamo stati bravi, quando vinci la partita contro la Juve significa che hai giocato una partita quasi perfetta e noi da questo punto di vista siamo stati veramente molto bravi. Sono molto contento perché i ragazzi hanno interpretato bene la gara, come l'avevamo preparata. Sicuramente sono contento, sono soddisfatto soprattutto per loro. È una vittoria importante perché è ottenuta contro la Juventus. Noi abbiamo grandissimo rispetto nei confronti di una squadra che per nove anni ha dominato in senso assoluto in Italia e che vuole per il decimo anno ancora dominare. Il fatto di essere riusciti a vincere la partita, confrontandola anche le partite dell'anno scorso in cui abbiamo perso, avevo chiesto una prova di maturità. avevo chiesto ai ragazzi di iniziare a sentire il sangue a livello sportivo di questo tipo di partite dove comunque ti giochi non solo i tre punti ma anche tanto altro. Quindi oggi sono stati veramente bravi, forti penso anche delle delusioni del passato, però bisogna continuare anche perché Anarondia non fa primavera, come ho detto prima. Quindi bisogna continuare, testa bassa e pedalare. Niccolò penso che oggi abbia disputato una buonissima partita, abbia interpretato la partita, ha fatto quello che gli avevo chiesto, ma altre volte gli avevo chiesto di svolgere questo compito. Quindi è stato molto bravo oggi, è stato veramente incisivo sotto tutti i punti di vista, tante volte lui per eccesso di generosità sprega tantissime energie, a volte perde dei palloni che potrebbero essere giocati magari in maniera migliore, ma per eccesso di generosità oggi è stato, penso abbia fatto forse la più bella gara da quando ci sono io. Perché è stato veramente perfetto sotto tutti i punti di vista tecnico-tattico, nella qualità di giocata, nella qualità del palleggio, è stato veramente molto bravo come gli altri.